Amici di PlayerUnknown's Side, oggi un nuovo quiz imperdibile perché vediamo come si battono tutti i boss dei videogiochi cioè grazie a questo video voi saprete come battere tutti i boss dei videogiochi da qui agli anni a venire no, non è vero, ovvero vediamo come si battono i boss più iconici dei videogiochi dobbiamo indovinarli, no? dobbiamo indovinarli perché non l'abbiamo ancora fatto il quiz, quindi siamo totalmente in blind e ci sono anche boss, credo che questo quiz preveda, boss che si possono battere in modi alternativi, no? ora scopriamo perché il quoz, il quoz si intitola ti ricordi come battere questi boss quindi c'è una questione anche di memoria Raiden, il che mi sa che quiz, you had one job, cioè quoz, quoz, quoz Bowser di Super Mario 64, ahia, colpendo il naso, spaccando le corna, prendendo la coda, saltando sul ventre prendendo la coda eh sì, perché lo girava sì, praticamente, ma in realtà era un modus operandi tipico di un discreto numero di boss di Super Mario 64 anche il primissimo, quello che si trovava in cima alla montagnola ma sì, infatti lui prendeva la coda, girava, lo buttava e per la forza centripeta ha sempre fatto ridere centripeta centrifuga, lui l'ho ammazzata vediamo se è vero sì è vero va bene, va bene, non lo so come ti chiami, sarei più in difficoltà dai ma su questo non ho alcuna difficoltà staccando la memory card, cambiando ingresso controller, resettando il sistema e restando immobile allora cambiando ingresso sì, allora qui c'è un'improprietà si poteva fare anche senza cambiare l'ingresso del controller sì sì, esatto, è vero questo è un escamotage per renderlo più semplice però in realtà c'era anche il modo di batterlo senza sì, si potevano spaccare le statue esatto e lui andava in crisi e tu gli sparavi attenzione, più metodi per battere i boss sì, sì, più metodi cambiando ingresso controller te, te grazie, quiz da normi la viverna antica di Dark Souls 3 allora attacco dall'alto, attacco dal basso colpo di palestra, freccia infuocata io mi sa che la so eh, vai tu attacco dall'alto brava e io così sparo vediamo se però in realtà anche frega in realtà c'erano vari modi attacco dall'alto eh, allora ma io in realtà sai che non me lo ricordo aia ma come? l'amante dei Souls il rappresentante dei Souls sì, ho capito però un player inside sì, però l'ho ucciso non mi ricordo come ah, vabbè in questo senso nel senso è stato nel 2018 mi pare di averlo ucciso in un modo o nell'altro ecco, questo è stato vabbè, ma secondo me ci sono tanti modi per battere sì, infatti 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 Wheat Lady Portal 2 sì un portale sull'acqua un portale che si muove due portali opposti un portale sulla luna vediamo se Mitt non lo sa dovrebbe essere sulla luna però io non garantisco ragazzi sì, sì, sì è lui, è lui è lui allora Gigamind Borderlands 3 un dispositivo sulla schiena il vetro che porta in testa i droni che lo seguono una scarica elettrica raga, qui alzo le mani perché purtroppo Borderlands 3 non l'ho giocato tutto quindi no, abbiamo giocato Borderlands 2 eh no quindi qua andiamo a tentativi perché non lo so il vetro che porta in testa si rompe e muore però anche il dispositivo sulla schiena è un grande classico intramontabile è vero facciamo questo? io non l'ho mai affrontato il vetro che porta in testa tu? ah se lo sapevi no, era giusto il vetro che porta in testa però per sbaglio ho cliccato su quello sopra ma cazzo dici? ragazzi mi dite fra poco se ne andava al canale perché è proprio vecchia rincoglionita proprio Razzler di God of War usando il potere del fulmine con le radici di Grasile che dovrebbe essere questo a mani nude o contraattaccate allora la risposta ideale per uno che dice tutto il tempo boi e ha quel fisico e soprattutto signori gratos perché ha quella barba barba da king dovrebbe fare tutto a mani nude e zitto e che cosa sono le lame del caos e che cosa lascia cretino combatti a mani nude se è un sevidio devi spaccare gli anni però in realtà è esattamente con le radici di Grasile esatto Leviathan di Subnautica Agliano non lo so Subnautica non l'abbiamo giocato allora giocato sì come Borderlands 3 l'abbiamo pure giocato sì l'abbiamo assaggiato però non siamo arrivati a questo boss quindi non lo so proviamo a intuire speronandolo col sottomarino scappando in una grotta usando lo Stasis Rifle usando il Repulsion Cannon facciamo ci sono due armi secondo me allora c'è il sottomarino facciamo speronandolo sì no era Stasis Rifle ma Dio ah The End di Metal Gear Solid vabbè questo è una un classico aspettando una settimana però in realtà potevete ammazzarlo normalmente sì certo anzi si poteva uccidere anche prima durante il dialogo tra virgolette però quando già ti dava l'azione tu potevi sparare aspettando una settimana in realtà è una un segreto sì una specie di cheat diciamo perché se fosse obbligatorio farlo non avrebbe senso cioè immaginate come fosse se fosse obbligatorio farlo io dico aspettando una settimana però in realtà sì Shinryu di Final Fantasy X una singola evocazione una singola coda di Fenice c'è questo eh una singola colpo caricato vabbè è cosa di Fenice sì sì la cosa di Fenice tanto è vero che era una sorta di contraddizione no? tu gli dai la cosa di Fenice che normalmente serve a far resuscitare i compagni perché è tipico degli nemici non morti o morti comunque tu giustamente li fai resuscitare quindi è un po' una cazzata guardian di Breath of the Wild cioè il guardiano colpendo le gambe usando le bombe sfruttando la magia parando con lo scudo vabbè intanto intanto devi parare con lo scudo sì e quindi questo parando con lo scudo e direzionando i suoi colpi poi verso di lui che poi sì verso le gambe le gambe le gambe si chiamano gambe guarda che belle gambe guarda la gamba non lo so come ti chiamano comunque parando con lo scudo sì 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 Doctor Neo Cortex di Crash Bandicoot ma quale l'uno eh non lo so non lo so quindi saltandogli in testa colpendo i raggi verdi schivando tutto distruggendo il jetpack e allora vabbè colpendo i raggi verdi colpendo i raggi verdi e mi fido di Raiden perché io una volta che mi ha dato gli indizi io risalgo al modo Phantom di Mario Plastravis tra l'altro un personaggio un boss bellissimo con una colonna sonora spettacolare incredibile distruggendo i riflettori staccando il microfono colpendolo sulla pancia lanciando i compagni allora se non erro devi distruggere i riflettori sì ci provo perché ok perfetto è giusto aspetta questo mi ricordo che è stato uno dei tuoi giochi preferiti del 2017 io non vedo l'ora 18 mi sa 17 non vedo l'ora che esca il sequel ragazzi Spazzo Hope sì hype a mille hype a mille è vero ma attenzione perché ci sarà il nostro video dei top giochi più attesi del 2022 esatto che uscirà domani forse sul primo canale lo vogliamo dire EveryEye ci ha copiato perché noi facevamo i 30 giochi più attesi ora anche loro i 30 giochi più attesi ma player inside since 2014 ma sì ma sti cazzi ciao Adria e vi amiamo il lago di Resident Evil 4 il lago vedi che tu devi sparare all'acqua si chiama lago vabbè era il mostro nel lago sparandolo a lanciarazzi col pendolo da dentro lanciando arpioni questo lanciando arpioni scappando è una buona cosa scappando è quello che farei io nella realtà ecco lanciando arpioni octobot king questa la so io sì sì no ma anche io con i suoi stessi pugni perché ha i pugni nelle mani buttandolo nell'inchiostro eliminando tutti gli scagnozzi saltandogli in testa vediamo se la so allora non mi ricordo con i suoi stessi pugni eh non mi ricordo faccio con i suoi stessi pugni sì vai è giusto quanto abbiamo fatto 12 su 14 grande si vede che ne sai allora Red Bull che fanno le Red Bull tra l'altro è un po' di concorrenza con l'altro lo sponsor che facciamo noi quindi diremo Bull Red ho vinto ma a quale costo sono 12 anni che hai questo screenshot di Wario meme che fa così però sono belli quiz del sito sono belli per carità sono belli però più che altro vi potete sforzare di più a scrivere un risultato grande si vede che ne sai una parola in più non lo so anche perché a 12 grande si vede che ne sai a 13 stessa cosa a 14 grande si vede che ne sai plus bene ragazzi questo era il quiz di oggi ci siamo divertiti abbiamo scoperto come ammazzare questi boss ma lo vogliamo dire che questi quiz sono un modo come un altro per approfittare per fare una rispolverata di quelle che sono le curiosità videoludiche è vero però in pillole è sotto forma diversa di quiz e ragazzi oltre a iscrivervi al canale vi invito anche a suggerirci altri quiz se magari ne trovate di carini e interessanti che noi siamo sempre pronti a farli a metterci alla prova da come l'hai detto sembra quasi che li stessi rimproverando sembrava mi raccomando portate la giustificazione scritta dai genitori se siete minori di 90 anni se non lo fate alla prossima grazie ciao